Agivano soprattutto di notte, non curanti neppure della presenza dei proprietari in casa che dormivano. Rompevano serrande, finestre e porte o si arrampicavano ai piani superiori, entrando nei repartamenti presi di mira e depredandoli di ogni cosa. Una banda senza scrupoli composta da quattro albanesi domiciliati nella zona nord di Torino, che tra gennaio e luglio di quest'anno hanno messo segno ben 33 furti in abitazioni, nei diversi comuni, soprattutto in Canavese. I carabinieri li hanno identificati e questa mattina all'alba li hanno arrestati. Lo scorso febbraio avevano effettuato un arresto nelle campagne di Caffasse. Lo scorso luglio erano stati fermati tre complici, subito dopo aver commesso due furti in altrettanto abitazioni di Valperga. In quell'occasione nella loro auto era stata ritrovata diversa riflutiva. Gli investigatori dell'arma hanno così minuziosamente ricostruito il modus operandi del gruppo criminale, riuscendo ad attribuire ai quattro stranieri altri 30 colpi. Grazie a tutti.